Ehi prof, che cosa facciamo stasera? Quello che facciamo tutte le sere, mignolo, tentare di conquistare il mondo. La notte fonda, fonda, partono a conquistare la terra, ma prima che nasca il sole c'è chi risolve e finisce male. Il mignolo col prof, ma specialmente il prof, con il suo cervellone è un pericolo mondiale. Insieme fanno scintille, ne incombinano sempre mille, compia il mignolo col prof, 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 prof. Dacchio! Dacchio!